Musica Sono felice di aver partecipato quest'oggi a questo incontro organizzato dal comune di Bianchi per celebrare il bicentenario della sua autonomia. E' stata una manifestazione importante alla presenza di varie autorità ma la presenza dell'intera comunità che si è ritrovata per festeggiare questo compleanno ma anche per raccontare ciò che è stato e perché no per parlare di ciò che dovrà essere. Comunità delle aree interne verso le quali è necessario dare attenzione, comunità di un'area importante, l'area del Savuto, rispetto alla quale bisognerà immaginare insieme ai sindaci una possibilità di sviluppo attraverso un comune progetto. Quando penso a Savuto penso ad un'unica città territorio, penso a tante comunità che si ritrovano qui, tante comunità che devono essere messe in rete per ognuna delle quali va individuata una specificità e una potenzialità particolare. Noi come regione siamo disponibili ad accogliere le istanze dei territori, cercheremo di dare risposta ad ognuna di queste comunità ma cercheremo di dare risposta ad un intero territorio. Per intanto per oggi sono stato felice di essere qui, di partecipare ad un momento di condivisione, un momento di festa, un momento di celebrazione ma anche ad un momento di riflessione. Per cui saluto e ringrazio il sindaco Pasquale Taverna e tutta la missione comunale che hanno avuto l'amabilità di invitarmi e spero di ritornare spesso più volte in questa bella comunità, comunità di bianchi ma in tutta l'area del Savuto. Grazie per la visione!